La buona riuscita di un video dipende al 50% dall'audio, ovvio! Eppure non sempre prestiamo adeguata attenzione e cura alla nostra colonna sonora quando montiamo un video. Quindi oggi ti mostro 4 cose da tenere presente quando vai a editare il tuo filmato e ti mostro come farle con Filmora 9. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dedicato a te che vuoi raccontare in video la tua impresa straordinaria, qualunque essa sia. Negli episodi ti mostro come ideare, creare, girare, montare un video e anche distribuirlo, in particolare sulla piattaforma YouTube. Se l'idea ti piace iscriviti al canale perché più siamo e più frequenti e approfonditi saranno gli episodi. Separare l'audio dal video è una banalità ma è una domanda che mi viene fatta spessissimo. Quindi ti mostro come fare. Seleziona la tua clip, tasto destro oppure ctrl click, ti si apre il menu contestuale lunghissimo, naviga in basso fino alla sezione audio e clicca semplicemente su separa. È utilissimo quando ti vuoi liberare definitivamente della traccia audio e capita quando magari è rovinata. Ma fai attenzione perché questa è una funzione irreversibile, almeno in Filmora, perché poi diventa molto difficile risincronizzare la traccia video con quella audio. Se lo fai per sbaglio puoi sempre utilizzare il tasto ctrl z che come qualsiasi altro programma annulla l'altra operazione. L'alternativa è cancellare le due tracce, tornare nuovamente nella libreria media, selezionare la tua clip e trascinarla nuovamente sulla timeline. Quindi fai questa operazione di separazione solo quando sei effettivamente sicuro che non vorrai più utilizzare quella traccia audio. In alternativa puoi semplicemente abbassare il volume della tua clip video. C'è una linea azzurra che sta ad indicare l'intensità dell'audio, posizioni il cursore lì sopra e trascini la linea verso il basso fino a raggiungere il meno 60 e quindi non si sentirà assolutamente niente. Questa operazione è facilmente reversibile perché semplicemente alzi nuovamente il volume della tua clip. Ora ti mostro come applicare una dissolvenza audio all'inizio e alla fine della tua clip. La dissolvenza è semplicemente un effetto che fa sì che il volume della tua audio parta da meno 60, quindi da un volume non udibile per arrivare fino al volume desiderato. Ci sono due modi per fare questo. La prima è quello semplicemente di applicare una transizione audio-video alla tua clip che è composta da audio e video. Queste li abbiamo già visti spesso negli episodi precedenti. Naviga in alto fino alla scheda transizione, apri il menu, ci sono tantissime, un'infinità di transizioni possibili. Crea una transizione dal nulla, da volume 0 fino al volume desiderato, nella parte audio. Non ci sono regolazioni da fare, questa dissolvenza viene applicata automaticamente laddove c'è una transizione video. Capita però che tu voglia applicare una dissolvenza anche senza nessun effetto visivo. Per esempio quando c'è un'alternanza tra inquadrature è fastidioso quando ad esempio il volume dell'audio entra repentinamente. Oppure quando vai ad aggiungere una traccia musicale non dall'inizio del brano è utile che la traccia audio inizi con una dissolvenza. Ora quindi ti spiego come fare. Nella tua traccia audio fai doppio clic e ti si apre la tabella delle impostazioni. A questo punto naviga fino alla scheda audio e li trovi tutte le regolazioni che puoi andare a fare sulla tua clip. Le prime tue voci sono la dissolvenza in entrata e la dissolvenza in uscita. Qui puoi semplicemente regolare la durata della dissolvenza e quindi la velocità con cui il volume passa dal nulla fino a essere udibile. Diamo un'occhiata alle altre voci scorrendo verso il basso. L'intonazione va a lavorare sulla frequenza delle onde sonore, quindi serve a renderla irriconoscibile o ridicola. Se scorri il cursore verso destra la voce diventerà stridula, mentre invece se scorri il cursore verso sinistra la voce diventerà cadernicola. L'altra voce equalizzatore funziona come l'equalizzatore di un qualsiasi stereo. Se apri il menu a tendina trovi una serie di valori preimpostati che servono veramente poco quando tu vai a lavorare con la voce umana. Ti mostro invece qualcosa di più sul personalizza che puoi selezionare in fondo e poi cliccare sul tasto. A questo punto ti si apre l'equalizzatore che probabilmente hai già visto. Puoi sperimentare e giocare come vuoi. Tieni presente soltanto che la frequenza della voce femminile si aggira attorno ai 165 e 255 Hz, cioè sta tra questo intervallo di frequenza. Mentre invece la voce maschile va dagli 85 ai 180 Hz. Quindi devi lavorare in questo intervallo di frequenza. L'ultima impostazione, riduzione del rumore di fondo, può essere utilissima e in alcuni casi salvifica. Tengo però a precisare che il rumore di fondo non ha nulla a che fare con il rumore improvviso. Quindi questo filtro non può nulla contro quei rumori tipo il vestito che sfrega sulla capsula del microfono oppure la penna che batte su una scrivania quando siamo seduti oppure ancora il soffio troppo forte quando registriamo con un microfono a gelato. Questa filtro serve per eliminare quel ronzio costante e fastidioso. Ad esempio il rumore del condizionatore oppure alcune interferenze che possono essere causate da radiomicrofoni oppure ancora il rumore elettrico. In questi casi quando l'audio è imperfetto a causa di questo brusio a bassa intensità ma costante si può provare ad applicare questo filtro. Questo filtro ha un menu a tendina con tre livelli di intensità debole, medio e forte. Inizia ad applicare il filtro debole e vedi se il tuo rumore viene eliminato altrimenti passa al debole e al forte. Purtroppo ogni filtro ha il suo rovescio della medaglia quindi soprattutto quando arrivi all'intensità forte in alcune frequenze l'audio può essere un pochino distorto. A questo punto sta a te valutare se è il caso di utilizzare il filtro oppure sopportare il fastidioso brusio di fondo. Ora ti parlo finalmente dei keyframe, i fotogrammi chiave spesso li ho nominati negli episodi precedenti semplicemente per dire che Filmora non li supporta. Infatti una delle funzionalità più interessanti della versione 9 di Filmora è l'introduzione dei fotogrammi chiave almeno nelle traccia audio. La regolazione dei volumi dell'audio è fondamentale quando vai a montare un video in cui c'è una traccia audio in presa diretta che alterna la voce umana e i rumori d'ambiente e una traccia musicale di sottofondo. Un montaggio ben fatto, professionale diciamo così vuole che quando si vuol dare risalto alla voce umana e si vuol fare sì che le parole siano intellegibili la traccia musicale deve essere abbassata in modo che non dia fastidio. Al contrario quando nel corso del video si procede e nell'audio in presa diretta ci sono semplicemente dei rumori d'ambiente a cui non si vuole dare risalto la traccia dell'audio in presa diretta viene abbassata e la traccia musicale diventi in quel momento la protagonista del tuo video. Ingrandisci la timeline perché lavorare con i keyframe è un lavoro di precisione e quindi hai bisogno di vedere nel dettaglio. Inoltre ricordati che hai bisogno sempre di creare due punti chiave per creare un crescendo o un decrescendo dell'intensità dell'audio. Ora ti spiego come fare. Posizionati esattamente su quella linea azzurra che sta a indicare il volume dell'audio e individua il punto dove vuoi che la tua traccia musicale inizi a decrescere. A quel punto pigia il tasto alt della tua tastiera e fai clic con il mouse. Vedrai che si crea quel puntino che è il primo fotogramma chiave. Vai avanti qualche secondo e individua il punto dove vuoi che il volume del tuo audio finisca di decrescere. A questo punto ancora pigia il tasto alt della tastiera e fai clic con il mouse. Si sono creati i due fotogrammi chiave. Fai la stessa cosa in maniera simmetrica dove la tua traccia audio dovrà reiniziare ad aumentare il volume della musica. Alt, clic, alt, clic. A questo punto hai creato quattro fotogrammi chiave, due per diminuire il volume, due per aumentare il volume. Col cursore del tuo mouse ti posizioni esattamente su quella linea in mezzo, si trasforma in una malina e trascini il volume del tuo audio verso il basso. Quanto verso il basso dipende un po' da te. Questo è un lavoro lungo e meticoloso che va fatto e ripetuto in ogni punto del tuo video in cui si crea questa alternanza tra parlato e musica per dare appunto il giusto risalto alle parole quando vuoi che le parole siano protagoniste o viceversa la musica quando vuoi che la musica diventi protagonista. Ultimo consiglio semplice ma non scontato è usa le cuffie. Anche se non sono delle cuffie ultra professionali, ti abituano a prestare attenzione alla traccia audio. Devi capire qual è il volume della musica per cui si crea un effetto piacevole nell'accostamento tra parole e musica e quando invece, come spesso accade, la musica è un intralcio e rende poco comprensibile quello che viene detto nel tuo video. Ci sarebbero altre cose da dire sul montaggio audio e video, ma il tempo è finito. Se hai dubbio o perplessità lasciameli tutti sottoscritti qua sotto in descrizione e non scappar via senza aver lasciato un like se questo episodio è stato utile e interessante. Ti ricordo inoltre che la cosa fondamentale per avere un audio di qualità è registrarlo in maniera corretta con la giusta attrezzatura e a questo proposito ho scritto una guida gratuita apposta per te che puoi scaricare se mi lasci il tuo indirizzo mail seguendo il link qua di fianco. E ora ho detto davvero tutto ed è il momento per mettere in immagini la tua storia e creare la visibilità che meriti. Grazie. Grazie.